Storie di diritti negati, repressi, violati. La sesta edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani si apre oggi a Napoli con un'anteprima sul tema Il Carcere Invivibile e la proiezione del film Il Gemello, che sottolinea la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea per il trattamento inumano e degradante dei suoi detenuti. Apertura ufficiale il 5 dicembre al PAN con la straordinaria mostra fotografica di Liu Xia, artista cinese agli arresti domiciliari in quanto moglie del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo che sconta una condanna a 11 anni per la sua attività politica. Il Festival incrocia il progetto della Garganta Poderosa, un lavoro di documentazione sull'esperimento di democrazia dal basso realizzato nella periferia povera di Buenos Aires, dove nel mezzo di una guerriglia tra narcotrafficanti rimase ucciso Kevin Molina, un bambino di 9 anni. Sono stato invitato dal Festival del Cinema dei Diritti Umani a seguire una storia nelle viglias di Buenos Aires, Zavaleta. È stato un periodo di investigazione dove ho raccolto una serie di informazioni, non solo di immagini ma di emozioni che mi stanno portando a realizzare un progetto che ho intenzione di realizzare a breve durante quest'anno. Storie di diritti umani calpestati, compreso quello alla salute. A Giuliano si parlerà di discariche abusive e dei bambini rom costretti a vivere tra i rifiuti. Al suo rorsola sarà proiettato il film Polvere per far conoscere le vicende di quei lavoratori che per anni hanno maneggiato l'amianto. Il tema dei diritti e della violazione dello scempio che si fa dei diritti ripropone interamente il tema di una globalizzazione che è segnata profondamente dall'ingiustizia, dalla perdita di ogni umanesimo e quindi credo che da questo punto di vista, come gli animatori di questo festival giustamente rivendicano, oggi Napoli è capitale dei diritti e credo che questo sia un bel modo di presentarsi della città anche in questo momento così difficile. Dal 6 al 9 dicembre ogni sera all'Accademia Astra saranno proiettati i film in concorso per questo festival. Saranno premiati il miglior documentario e il miglior corto in gara, scelti da due giurie di esperti. Gli studenti assegneranno un premio speciale e il comitato organizzatore attribuirà le menzioni alla memoria di Giuliano Mercamis e di Vittorio Arrigoni. Abbiamo una sezione dedicata completamente alle politiche di genere che si chiama Sguardi di genere che sarà ospitata al PAN per tutta la durata del festival e poi c'è eventi tematici internazionali che è il classico in cui abbiamo iniziato, cioè gli eventi di diritto che si occupano di temi di diritto e quest'anno guarderanno a 5 paesi, Argentina, Cina, i Balcani, la Francia e la Siria. E poi anche abbiamo dato inizio dalla prossima primavera ad un master di secondo livello che è promosso dal festival e che si terrà tra le Università di Napoli e di Salerno insieme con quelle argentine. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero. Il calendario completo su www.cinenapolidiritti.it e sulla pagina facebook del festival.